Buonasera, sono Antonio dell'Agenzia Farini e oggi ci troviamo in zona Madonnina, in un bilocale a piano terra. Qui abbiamo la zona giorno con angolo cottura in open space, molto spazioso. Si entra, si accede all'immobile da un giardino privato che gira su due lati della casa. Poi, rientrando dentro, passiamo alla zona notte. Di qua abbiamo questa porta che collega il garage con un piccolo disimpegno dove troviamo la lavatrice. Di qua si accede al garage. Proseguendo, abbiamo il primo bagno con vasca. Sono presenti due bagni in questo bilocale. Camera matrimoniale collegata col giardino. E infine, il secondo bagno con box doccia. Se siete interessati, potete contattarmi al 380-748-7735. Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie.